L'avanzare del tempo è un concetto che ognuno di noi vive in modo diverso. C'è chi ama i capelli bianchi, chi preferisce la tinta, chi ama rivoluzionare il proprio look. Tra VIP che sfoggiano la chioma canuta e VIP che rifiutano i ritocchini o i cosiddetti trattamenti anti-age, Arisa, invece, si è sottoposta a un trattamento per contrastare i segni del tempo, che rende più liscia la pelle e combatte soprattutto le rughe di espressione. Il suo, volersi bene, sfida tutti, e non ha paura del giudizio altrui. Arisa, il trattamento estetico contro il tempo che passa, volersi bene, ogni tanto, ci sta. Tante volte abbiamo parlato delle donne che non hanno paura di mostrare i propri capelli bianchi, o una chioma fluente, come nel caso di Demi Moore, da sempre contraria ai pregiudizi in fatto di bellezza. Arisa, che ama prendersi cura di se volersi bene, come ha detto lei stessa su Instagram si è mostrata durante un trattamento estetico, e non è di certo la, norma. Perché, comunque si osservi la situazione, ci sono tanti tabù a riguardo, c'è il tabù di, rifarsi, di cedere al, ritocchino, di amare i propri capelli bianchi, di andare contro l'avanzare del tempo, e allo stesso tempo c'è chi sostiene che dovremmo tutti.